Bella ragazzi, qua è Ghiotto, signori, Romelu Lukaku un nuovo giocatore dell'Inter per circa 70 milioni più 13 di bonus, però adesso le cifre non sono importanti quindi finalmente arriva il fantomatico attaccante richiesto da Antonio Conte e da tutti i tifosi grandissimo entusiasmo dei tifosi nerazzurri, lo condivido perché vi dico la verità fossi interista e sarei anch'io entusiasta ma oggi andremo a analizzare tutto di Lukaku, numeri, pregi, difetti quindi andremo a vedere un po' di statistiche e poi vi elencherò almeno 4-5 diciamo pro e 4-5 contro signori vi dico un video unico su Youtube, io ho visto molti video che sono usciti su Lukaku ma questo vi assicuro è quello più completo, veramente anche chi non sa chi è Lukaku o comunque magari lo sa di nome ma non l'ha visto giocare 20.000 volte con questo video veramente sembrerà veramente di conoscerlo in toto allora signori partiamo subito, intanto andiamo con la carta di identità di Romelu Lukaku è un classe 93, belga, 1,90 ed è un piede sinistro poi anche con il destro comunque se la cava però appunto su piede forte è il sinistro, ruolo punta centrale ha occupato anche il ruolo diciamo di esterno diciamo in un attacco a due secondo me è l'ideale con Lautaro si completano secondo me è il suo ruolo migliore in un attacco a due Lukaku secondo me può rendere al massimo poi nell'ultima stagione nell'ultima stagione al Manchester United ha fatto 45 presenze e 15 reti quindi diciamo una media goal tutt'altro che invidiabile ma sappiamo che viene da una stagione non all'altezza e ci sta, negli attaccanti capitano spesso le stagioni no infatti si è un po' deprezzato rispetto all'anno scorso poi il suo score in Premier League 252 partite 113 reti quindi più o meno segna una partita sì una partita no quindi una media goal veramente ottima e anche perché non ha sempre giocato in squadroni perché ha militato vabbè a parte nell'Anderlecht, nel Chelsea nel West Bromwich Albion nell'Everton e nel Manchester United Manchester United che negli ultimi anni non è che abbia uno squadrone incredibile quindi una media goal veramente ottima la sua migliore stagione è stata nel 2016 la sua migliore stagione è stata nel 2016-2017 quando militava nell'Everton e ha fatto 25 goal quindi vedete che è un attaccante che non ha mai segnato a raffica ok? non è uno che ti fa 30 e più goal in una stagione però diciamo i suoi 20 di solito te li fa sempre a parte nell'ultima stagione che è stata particolarmente negativa nel Manchester United nello specifico il suo scorre è 96 presenze e 42 gol quindi vediamo che diciamo abbastanza lineare un gol, una partita segna, una no un'ottima meno nel Belgio addirittura ancora meglio perché 81 presenze e 48 gol ma qui secondo me è favorito anche molto dal gioco della squadra che è un gioco molto offensivo comunque al Mondiale sono arrivati i terzi e le europee non hanno fatto benissimo comunque il Belgio è un'ottima nazionale lo sappiamo tutti comunque in totale nella sua carriera lui ricordiamo ha 26 anni ha già giocato 413 partite veramente tante 187 reti quindi vediamo non proprio un gol ogni due partite ma comunque una media ottima e 68 assist quindi anche gli assist sono tanti quindi da queste statistiche sembra un giocatore diciamo che fraseggia anche bene con i compagni altruista eccetera allora ragazzi partiamo subito con i difetti di Lukaku che ho selezionato io ok? poi i pregi andiamo dopo andiamo sai come quando si dice vuoi prima una notizia buona o cattiva? dite sempre la cattiva quindi partiamo con le notizie diciamo cattive tra virgolette allora fatica nel fraseggio Lukaku è un giocatore che nello stretto soprattutto fa molta fatica sbaglia tantissimi passaggi praticamente ho visto statisticamente su una ventina di passaggi 6-7 passaggi li sbaglia quindi un giocatore che per esempio nell'attacco di Sarri in un 4-3-3 Sarri un gioco molto basato sul possesso palla non era assolutamente adatto nel gioco di Conte secondo me invece è più adatto ma poi ripeto questo andiamo a vederlo poi nei pro di Romero Lukaku poi no dribbling è un giocatore che in media fa un dribbling a partita quindi nel gioco di Conte che sarà anche spesso in contropiede e tutto serve anche un giocatore che dribbla e non è secondo me Romero Lukaku perché è un giocatore anche molto pesante gran fisico ma è pesante e fatica a effettuare appunto il dribbling poi nonostante il gran fisico è un giocatore che in media perde due contrasti a partita quindi ciò significa che non sa usare il proprio fisico perché io ho visto il fisico di Romero Lukaku è fin troppo mastodontico per il gioco del calcio secondo me perché io ho l'esempio in squadra di Milinkovic Sabici un giocatore alto però longilineo non è grosso muscolarmente Milinkovic Sabici non è neanche muscoloso Milinkovic Sabici ma sa usare bene il suo fisico ci sono anche dei giocatori alti così nel calcio che però sanno usare bene il suo fisico Romero Lukaku non è questo poi quando parte magari in progressione è anche difficile fermarlo perché protezione palla gran fisico si mette davanti alla palla però magari nei contrasti colpi di testa lui non è un gran colpitore di testa nella protezione del pallone fa fatica ma insieme a Lautaro secondo me Lautaro li può portare via tanto lavoro come Lukaku può portare via tanto lavoro a Lautaro e ai centrocampisti Lautaro lo stesso magari nella protezione del pallone può ricevere palla Lautaro e Lukaku partire ad esempio o viceversa comunque si possono alternare un po' quindi anche per questo che in un attacco a due Romero Lukaku ce lo vedo molto bene come vedo bene anche Lautaro poi è poco concreto perché un giocatore che in media si mangia una decina di gol a campionato io poi l'ho visto giocare un giocatore che magari in giornata ti può fare tre gol ma quando non è in giornata te ne può sbagliare tre ok quindi rispetto ai cardi sicuramente è molto meno concreto davanti alla porta ma comunque abbiamo visto che i suoi numeri sono ottimi quindi un giocatore che si crea anche tante occasioni lui quindi diciamo che bilancia questa poca concretezza con comunque tanti gol ok nonostante quello un giocatore che magari su tre occasioni ne fa solo due i cardi ne fa tre però è un giocatore che secondo me rispetto ai cardi si crea anche più le occasioni da solo anche se io ieri mi sono visto poi una carrellata di gol è un giocatore che praticamente segna poi tutti i modi dentro l'area ma solo dentro l'area è un giocatore molto d'area di rigore gli piace comunque variare anche fuori dall'area di rigore ma poi i gol li realizza sempre dentro l'area di rigore e poi l'ultimo difetto diciamo di Romero Lukaku è che è in calo nelle ultime stagioni perché è innegabile che il suo momento migliore l'ha avuto nel 2016-2017 nell'Everton quindi stiamo parlando di tre anni fa circa sì tre stagioni fa quindi bisogna vedere cioè se Lukaku si riprenderà da questo calo se è solo un calo dovuto magari alla squadra e magari nell'Inter esplodo invece un calo scusate proprio del giocatore comunque un giocatore che ha ancora margini di miglioramento perché comunque un 93-26 mi pare come Icardi quindi può ancora migliorare poi veniamo ai pregi diciamo di Romero Lukaku bravo negli spazi bravo negli spazi quindi Conte fa un gioco lo conosciamo Conte anche in Italia nella Juve un gioco spesso difesa e poi contropiede quindi Romero Lukaku secondo me è un ottimo contropiedista e quindi è adatto al gioco di Conte poi un altro pregio è proprio ripeto Conte Conte ha sempre voluto Romero Lukaku non l'ha mai allenato ricordiamolo non l'ha mai allenato però l'ha sempre voluto quindi io dico se Conte vuole quel giocatore vuol dire che ci crede vuol dire che sa che è un giocatore adatto al suo progetto quindi secondo me questo è un grande appunto pregio diciamo dell'acquisto di Romero Lukaku poi gran fisico gran fisico perché abbiamo detto si perde due contrasti in media partita sono tanti però secondo me per un difensore avversario vedere già comunque un gigante di quel tipo veramente due metri per due beh fa fa effetto cioè incute comunque timore sono sicuro ai difensori soprattutto a quelli magari un po' meno esperti e poi ripeto in contropiede grandi falcate Romero Lukaku è difficile da fermare ho visto molti gol che lui magari parte da 30 metri in contropiede ci sono due dietro che lo rincorrono ma la protezione del pallone comunque gran fisico e va a segnare ok e poi comunque ripeto favorirà gli inserimenti dei centrocampisti di Lautaro perché un giocatore comunque che occuperà uno o due difensori cioè Romero Lukaku ci deve marcare in uno barra due giocatori quindi libererà spazi perché nel 352 è un modulo che comunque favorisce molto gli inserimenti dei centrocampisti e come Barella e quelli che giocheranno adesso non so poi il centrocampo dell'intitolare quale sarà quindi sia Lautaro che lui si porteranno via lavoro a vicenda e lasciaranno spazio ripeto o a uno dei due o comunque ai centrocampisti quindi signori il mio voto se devo dare poi un voto all'acquisto di Romero Lukaku allora se io guardo solo l'aspetto tecnico do un sette e mezzo otto se guardo qualità prezzo do un 6 perché comunque è una spesa folle secondo me per Romero Lukaku che mi pare che il suo maggior trasferimento è stato 50 milioni quando è passato da Leverton al Manchester mi pare al Manchester ha fatto peggio tu lo vai a pagare 30 milioni in più ok? sì che ha giocato nel Manchester che però non è uno squadrone ormai non è più il Manchester quando c'era Ronaldo Giggs Carrick eccetera è un Manchester che è diventata una delle tante ok? ci sono tante squadre più forti quindi una spesa secondo me folle folle che poi siano 70 più 13 da cosa ho visto poi che siano 78 80 siamo lì 80 milioni ok? sono tanti per Romero Lukaku però come dire Conte l'ha voluto e tutto vi ho elencato tutto quindi secondo me è un giocatore che può fare bene è un'incognita secondo me io non vi dico no Lukaku quest'anno fa 20 gole e tutto però magari potrà fare fatica un po' all'inizio per un giocatore che non ha fatto il precampionato non ha fatto l'amichevole quindi anche dotato di gran fisico ha bisogno di più tempo però alla lunga secondo me alla fine è un acquisto che pagherà l'entusiasmo odierno dei tifosi interisti signori vi saluto vi ringrazio like al video almeno 350 like per questo video perché veramente ragazzi cioè completo anche non sa chi è Lukaku veramente ha capito tutto di Romero Lukaku niente like al video condividetelo iscrivetevi al canale seguitemi su Instagram per supportare il canale in descrizione ciao ragazzi bella